L'Undercover Mode è una funzionalità che è stata aggiunta tempo fa nella release di Kali Linux 2019. Permette di camuffare il sistema operativo facendolo sembrare Windows, in modo da non attirare sguardi indiscreti. Può essere però usata anche con altri scopi. Fornire ai nuovi utenti di Linux l'interfaccia di Windows, utile in una prima fase di ambientamento. Nel video vedremo come abilitare tale funzionalità. Buona visione e non dimenticate di mettere like e iscrivervi al mio canale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.